buonasera a tutti benvenuti o ben ritrovati sul mio canale scusate il mare mosso già da subito questa sera video unboxing di una nuova collaborazione e quindi relativa presentazione di questo nuovo sito che mi ha proposto la collaborazione stiamo parlando della cross stitch che come avrete intuito si tratta di punto croce questo sito mi ha questa azienda mi ha contattata chiedendomi se avessi piacere a presentare il loro sito quindi farvi vedere qualcosina e a prendere alcuni prodotti a mia scelta e farvi poi vedere come è strutturata la confezione del prodotto allora io direi qui in diretta cerchiamo di spostare la videocamera senza fare grossi danni e come vedete io qui ho il mio computerino aspettate un secondo che posizioniamo in maniera decente magari la videocamera se riesco a far star fermo il cavalletto che pende un attimino allora questo è il sito della cross stitch come vedete scritto qui sopra allora su questo sito cosa possiamo trovare? io adesso vi faccio vedere perché si è vero è un sito di punto croce però ci sono diverse tipologie di appunto kit per il punto croce allora noi andiamo sulla home e andiamo a vedere dunque come vedete ci sono nuovi arrivi il più venduto strumenti per punto croce punto croce e come vedete si aprono diverse categorie animali scenari fiori astratto cartone animato c'è un po' di tutto e come vedete ci sono anche delle siglature diverse 14 ct 11 ct che hanno un senso perché adesso quando poi vi farò vedere i due prodotti che ho scelto io vi spiegherò anche la differenza ad esempio andiamo qui adesso non ho il mouse perché mi sono accorta di avere la batteria scarica e quindi sarà un po' un pasticcio farvi vedere allora come vedete ci sono varie dispositivo di guida per l'infilatura degli aghi quindi c'è un po' di tutto vediamo se riusciamo a farvi vedere andiamo ad esempio qui animali e come vedete ci sono diverse tipologie di quadri perché poi alla fine vengono fuori dei quadri sotto ci sono le dimensioni scritte e potete andarvi a scegliere il tema diciamo che più vi piace ad esempio ora guardiamo magari la categoria scenario questi sono tutti tipo dei paesaggi poi abbiamo la categoria degli strumenti abbiamo la categoria dei nuovi arrivi dove potete sempre andare a vedere le novità del sito e per voi che mi seguite l'azienda ha anche riservato un codice sconto del 5% che dopo vi comunicherò benissimo ora rispostiamoci quindi vi faccio rivenire al mal di mare vi faccio vedere il disastro che ho io sulla scrivania perché vorrei riuscire a farvi vedere i prodotti che ho selezionato io allora vediamo un po' se riusciamo a far stare questo trabicolo fermo allora aspettate un attimo che trovo una posizione allora più o meno sono riuscita a piazzare il cavalletto e qui voglio farvi vedere il primo kit che ho scelto che sarebbe questo qui dello stemma di harry potter le case di harry potter di awards allora questo schema ha una tela 11 ct a questa dicitura 11 ct se voi guardate sul sito perché poi ci sono diverse tipologie di schemi che poi dopo vi dico vuol dire che praticamente bisogna lavorare con tre fili e adesso aspettate perché io qui ho cercato anche di intanto cerchiamo di capire come si presenta il kit il kit si presenta con una tela stampata ma non è stampata come i classici punto croce diciamo perché come vedete i colori non corrispondono a quelli effettivi del disegno quindi noi magari siamo abituati ad una tela per un quadro a punto croce con come base già i colori molto simili a quelli che noi andiamo ad utilizzare invece qui no perché se vedete allora ci sono adesso non so se riuscite a distinguerli bene comunque ci sono diversi simboli o comunque diversi colori noi qui di fianco aspettate che piego questa in questo modo così riesco a farmi vedere qui di fianco abbiamo una leggenda dove ci va a dire numero 01 quindi tutta questa zona qua che è segnata con la colorazione azzurra noi dobbiamo andare ad utilizzare il colore 310 e ci dice che è il nero la zona 02 è contrassegnata da una riga verde in diagonale che io in questo momento non ne ho visto ancora neanche una ma devo ancora guardare ah ecco che sarebbero praticamente questa zona qui vedete che c'è la riga verde in diagonale e via dicendo perciò la leggenda vi serve per capire quale colore utilizzare e dove come vedete qui c'è la numerazione che segna i colori perché? perché all'interno del kit noi troviamo tutti i colori necessari per la realizzazione e sono comunque colori della DMC quindi marchio che troviamo tranquillamente anche in Italia e come vedete infatti siccome qui la base è nera la maggior parte cioè ovviamente di nero ne ho un quantitativo industriale allora insieme ai fili alla leggenda e tutto quello che c'è troverete anche due aghi da ricamo che uno l'ho piazzato qui e uno ce l'ho puntato sulla tela perché ho iniziato a lavorarla a punto croce allora differenza tra 11 ct come questo schema e 14 ct benissimo allora i nostri fili prendiamone uno intero sono formati da sei fili ups che qui mi abbandona il cavalletto allora sono formati un filo e formato da sei fili praticamente questo filo è composto da sei fili più sottili per lavorare questo tipo di schema quindi l'undici ct noi dobbiamo lavorare con tre fili perciò cosa dobbiamo fare andare qui dividere il filo quindi da sei tiriamo fuori due gruppetti da tre fili e andiamo avanti a srotolarlo delicatamente fino a quando lo abbiamo diviso tutto vedete io ne ho messi tre di qua e tre di qua e poi basta tirare delicatamente e il filo si apre quindi tre fili poi li metteremo sul lago per iniziare a lavorare e gli altri tre li useremo quando abbiamo finito quelli dicevamo qui ci sono tutti i fili per andarlo a creare e comunque diciamo che è abbastanza semplice abbastanza intuitivo l'unica cosa che vi consiglio di fare attenzione è che sul sito ci sono alcuni prodotti che sono diversi nel senso alcuni li trovate fatti in questo modo altri li trovate con come si può dire la tela totalmente bianca e andate seguendo lo schema che vi viene fornito insieme a completare a creare il disegno direttamente sulla tela quindi proprio come se voi vi prendesse una tela bianca prendete uno schema su un giornale del punto croce e lo ricreate con i punti direttamente sulla tela allora questo era il primo set diciamo il primo kit di quadro che io ho preso nel infobox ovviamente vi metterò poi i link diretti ai prodotti l'unica cosa ho notato andando a guardare stasera sul sito che del secondo prodotto che ho preso molto probabilmente non ce n'è più perché se io vado a cliccare sul link diretto del prodotto mi dice pagina non trovata quindi magari è esaurito questo ad esempio è un altro tipo di kit questo dietro a delle diciamo indicazioni molto più dettagliate anche se sono scritte in inglese ma si capiscono benissimo intanto su questo è specificato che la tela è un 14 ct quindi va lavorato con due fili invece che tre e all'interno è proprio strutturato diverso il kit adesso lo apriamo insieme e vi faccio vedere allora anche qui ovviamente trovate la tela stampata già col disegno sopra trovate gli aghi e trovate tutti i fili ma in più abbiamo proprio lo schema del disegno anche suddiviso in quattro parti perché su questo foglio praticamente ci sono una due tre o quattro parti più queste due piccoline su questo foglio e infatti da questa parte vedete poi che c'è anche il disegno completo di quello che dovrebbe venire fuori vedete e vi dice come è suddiviso lo schema questo è un 14 ct e ha delle parti suddivise nel senso se noi andiamo a guardare il quadro vedete che anche qui i colori non sono quelli che corrispondono diciamo a quello che sarà poi il vero disegno perché come vedete ci sono questi colori molto vivaci molto pimpanti e l'indicazione che abbiamo è che qui abbiamo delle parti dove vanno ricamate con il classico punto croce pieno e delle parti dove c'è scritto backstitch che sono praticamente le rifiniture le rifiniture le trovate segnate nello schema con queste linee molto marcate con colori abbastanza in evidenza e dove poi voi praticamente andate a definire alcune parti del disegno del quadro anche qui avete una leggenda con simboli colori e chi più ne ha più ne metta collegati ovviamente ai codici del colore che voi dovete utilizzare anche qui ci sono due aghi in dotazione come potete vedere qui c'è ancora la bustina attaccata con i due aghi eccoli qua e avete praticamente tutti i colori che vi servono per fare il quadro qui ci sono quelli dal 16 al 30 e da questa parte abbiamo quelli dall'1 al 14 anzi al 15 scusate come vedete vi dicevo su questo è segnato 14 ct e quindi che bisogna lavorarlo con due fili per volta quindi da un filo da 6 tirerete via praticamente tre mazzetti da due fili che andrete ad utilizzare per fare il disegno perché la trama della tela è più piccolina rispetto a quella del quadro precedente questo qui è un quadro abbastanza lunghino perché comunque viene fuori praticamente un quadro rettangolare adesso non so neanche se da qualche parte ci sono segnate le misure della tela perché io non me le ricordo sinceramente e non vedo in questo momento dove siano segnate comunque vi metto il il link quindi potete poi andare a vedere infatti in questo modo ce ne sono altri anche con altri animali con temi di paesaggio ce ne sono addirittura di più grandi quindi se proprio una di voi è appassionata di punto croce può sbizzarrirsi nel scegliere i disegni anche perché sul sito c'è la promozione che ne comprate 5 ne pagate 4 e in più potete utilizzare il 5% di sconto riservato a chi segue il mio canale o chi o comunque a chi è venuto a conoscenza di questo sito vedendo il mio video ora la presentazione del sito l'abbiamo fatta io adesso cercherò di mettermi all'opera e magari più avanti vi farò vedere un pezzo poi del quadro lavorato come risulta poi lavorato io intanto vi auguro una buona serata e vi consiglio di andare a fare un salto su questo sito se vi piace il punto croce anche perché non ci sono solo quadri ma ci sono anche cose più piccoline e quindi magari trovate qualcosa anche per iniziare ad avvicinarvi a questa parte di mondo creativo una buona serata a tutte ci vediamo presto e mi raccomando se il video vi è piaciuto anche se c'è stato un po' di mare mosso mettetemi un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate la campanellina così rimarrete sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi contenuti qui sul canale un abbraccio a tutte e vi auguro una buona serata e alla prossima ciao 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 ciao